Quattro look diversi per un matrimonio da favola. Alena Seredova, ex del portiere Gianluigi Buffon, si è sposata con il manager Alessandro Nasi. Vivevano già assieme dal 2015 e hanno una figlia di tre anni. Alena, pensate, ha fatto quattro cambi d'abito, iniziando per la cerimonia con vestito stile principessa con un magnifico scollo a cuore.